Due fagioli con due in insalata, quelle scatolette piccolette, quindi non ammischio. Allora adesso non lavora, allora te lo tieni lassù a Giacchetto? Eh sì. Stasera ne danniamo a mangiare. Ma qualcosa? No, no, no. No, domanda dietro quattro colucchette, che si sgonfia. Stati. Mi ha fatto così a lui, no? E lui ha cominciato a fare alle amiche sussure anche se... Don't do that! E lui ha fatto vedere.